Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto. Questo il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si concluderà lunedì prossimo. Gesù ci ha aperto la via pregando, ha tweetato il pontefice, l'unità dei cristiani, ha scritto Francesco, può giungere solo come frutto della preghiera. Il Santo Padre ha anche ricordato che l'unità è anzitutto un dono e una grazia da chiedere con la preghiera. Ciascuno di noi ne ha bisogno. La soluzione alle divisioni non è opporsi a qualcuno perché la discordia genera altra discordia. Il vero rimedio, ha detto il Santo Padre, comincia dal chiedere a Dio la pace, la riconciliazione, l'unità. Questo vale prima di tutto per i cristiani. L'unità può giungere solo come frutto della preghiera. La settimana dell'unità dei cristiani, che si celebra ogni anno dal 18 al 25 gennaio, offre anche l'occasione di approfondire il messaggio delle lacrime versate dalla Madonna Siracusa. Le lacrime di Maria sono lacrime di dolore per le divisioni fra i cristiani. Sono anche invito della madre a collaborare al progetto di Dio, che vuole radunare tutta l'umanità dispersa in un'unica famiglia, senza distinzioni. Celebrazioni in tutte le città, da Roma a Siracusa, dove lunedì prossimo, alle 18, sarà celebrata una santa messa nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, la casa della madre che raduna tutti, credenti e non. Grazie a tutti.